Arriva a Milano la prima digital exhibition immersiva e interattiva d'Italia dedicata alla Galleria degli Uffizi di Firenze. L'evento Uffizi Virtual Experience da Giotto a Caravaggio nasce dall'esigenza di valorizzare il patrimonio artistico-culturale italiano attraverso un viaggio interattivo che mostra 400 anni di storia dell'arte del nostro paese. Questo è possibile grazie all'uso delle multiproiezioni immersive, delle immagini in movimento e della tecnologia di Uffizi Touch, il quale contiene tutto il patrimonio artistico del Museo Fiorentino. L'evento è in programma dal 22 gennaio al 10 marzo 2016 presso la Fabbrica del Vapore di via Giulio Cesare Procaccini 4 a Milano. Oltre alla mostra in programma visite guidate, laboratori didattici, workshop per bambini, ragazzi, studenti e famiglie ed incontri settimanali per gli adulti. Tra le opere d'arte in mostra sono presenti la Maestà di Giotto, l'Annunciazione di Leonardo da Vinci, la Nascita di Venere e la Primavera del Botticelli, Madonna del Cardellino di Raffaello, il Tondo Doni di Michelangelo, la Venere di Urbino di Tiziano e la Medusa del Caravaggio. Il percorso della mostra è suddiviso in due sezioni, la parte immersiva dedicata alla visione delle opere che vanno dal 200 di Giotto al 600 di Caravaggio e quella interattiva, ludico, esperienziale e didattica. In quest'ultima sezione si svolgeranno lezioni frontali e interattive per studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Tutte le mattine, da lunedì al venerdì, saranno organizzate lezioni di storia dell'arte, preparate da Irene Martinelli e realizzate dagli allievi della scuola di teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro. Il sabato e la domenica saranno due giorni dedicati alle famiglie, con laboratori didattici per bambini dai 3 ai 12 anni, giochi basati sulle opere, disegni, rappresentazioni teatrali e fumetti. Per gli adulti, ogni giovedì alle 19.30, sono previsti incontri di approfondimento negli spazi della Digital Exhibition tenuti da esperti di arte, moda, enogastronomia, tecnologia e digital humanities. Uffizi Virtual Experience da Giotto a Caravaggio. Info e prezzi. Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 10 alle 19, giovedì e sabato dalle 10 alle 23. Ingresso 10 euro, ridotto under 18, studenti over 65, disabili per gli eventi diritto all'accompagnamento secondo la legge 104.92, l'accompagnatore ha diritto all'ingresso gratuito 8 euro, famiglia, due adulti e due bambini o un adulto e tre bambini 30 euro, maxi famiglia, due adulti più tre bambini o un adulto e quattro bambini 38 euro, le scuole 6 euro. Grazie a tutti.